Salve amiche, come andiamo? Tutti bene? Cala la mia famiglia Grazie a mangiato, cannellino pure Ok Sono qui, fuori Visto che è una bella giornata ne approfitto che sono fuori Non fate nemmeno tanto credo Visto che siamo a testembre Come sentite le campane della mia chiesa stanno suonando Sarebbero le 5 All'altro, sì, penso che siano le 5 Voglio aggiornarvi a quello che sta succedendo La ragazza non c'è più tre settimane fa Sto parlando della ragazza barbara E abbiamo avuto delle discussioni Indifferenti Quindi discussioni che Non da me Ma da lei E ci sono Dele menti così copache Niente Allora Siamo E quindi ho deciso che Non avere più amici Sì, sono su Facebook No, voglio occuparmi di Di che mi sta davvero vicino Quindi La parola Amici Sospendiamo pure L'annun- Poi prima o poi Ma non ne ho Vado su amici virtuali Oh, due o tre amici Sì, sì, si cosema Ciao, ciao, ciao Ciao, ciao, ciao Cioè Intentro così Mi va bene così Ma la cosa rimanda così e basta. Poi lo posso dire, poi andando avanti, vedo che le visualizzazioni crescono e i fans se diventano più, crescono anche i fans, sembra 330, 330 fans, quindi sono contento. Sono contento anche che il signor Giuseppe Simone ha capito che doveva andarsene, e sto contento. Parlo piano perché non voglio farmi sentire dalla mia vicina, quindi parlo piano perché è la mia vicina, quindi sono fuori in balcone. Bene, io avrei detto, ci vedremo prossimamente. Ok? Ciao ragazzi, statemi bene, alla prossima! Sì, stai. Sì, stai.